Ospite quest'oggi nei nostri studi il signor Stefano Cosimi che ha scritto un dramma storico intitolato La Mela d'Oro, un successo nel suo primo allestimento all'aperto a Civita Nova Marche lo scorso fine giugno. Come è nata l'idea di scrivere proprio questo testo e di metterlo in scena? Sì, io mi occupo anche di storia, normalmente di Medio Oriente e di storia moderna e contemporanea. Questo però è un episodio che mi ha sempre colpito molto per la drammaticità con cui si è svolto. E in pratica La Mela d'Oro è Costantinopoli, nel linguaggio dei turchi ottomani, che sono quelli che decreteranno la fine di un impero ultramillenario, che poi è l'impero romano d'Oriente, anche se ormai parliamo di Greci da molto tempo. Cade il 29 maggio 1453, Costantinopoli termina l'impero dopo un assedio di quasi due mesi mosso dai turchi ottomani. La città è difesa da soli 4.000 soldati greci e mercenari e da 2.000 latini. Quasi tutti sono genovesi e veneziani. I genovesi hanno il comando delle mura di terra, i veneziani di quello che rimane dell'armata di mare. Dall'altro lato ci sono oltre 100.000, poi avranno anche dei rinforzi turchi, ma soprattutto delle bocche da fuoco inusitate che spianeranno tratti di mura che poi di notte verranno continuamente rimessi su, a meno peggio dai cittadini e dai soldati. Una scenografia particolare, un cast con tanti attori, quanto lavoro c'è dietro una messa in scena come questa? Ci sono parecchi mesi, anche perché gli attori vengono da svariate compagnie delle marche, ci sono anche dei professionisti e degli amatoriali dietro. Ci sono 12 attori, una decina di comparse, sono quelli che poi mettono in atto i combattimenti tra i turchi e in particolare i genovesi che difendono Costantinopoli. Ci sono due danzatrici professioniste, una che farà la danza del ventre per Maometto II, che è il sultano dei turchi ottomani, e un'altra danzatrice che interpreterà la morte, che accompagna le ultime ore e poi gli ultimi istanti dell'imperatore Costantino XI. Un lavoro così ponderoso, impegnativo, era difficile che avrebbe potuto fare il successo che ha fatto, e che però noi replicheremo d'inverno in varie località, abbiamo già dei contatti. A chi si sente di consigliare la visione di questo suo spettacolo? Questa veramente è una bella domanda, la ringrazio Nassist, perché si pensa normalmente che possa interessare solamente dei cultori di storia. Non è assolutamente così, perché l'intreccio tra l'altro è molto drammatico. È drammatico ed è congegnato il racconto senza trascurare alcun particolare, quindi le fonti sono fonti storiche assolutamente attendibili, ma cosa avviene? Che si ingenera nello spettatore, che può essere una persona assolutamente comune, che vede un normale spettacolo, si ingenerano varie aspettative, tra cui quella che la storia finirà bene per i difensori, cosa che nei fatti non avverrà. E quindi lo spettatore segue fino in fondo quello che gli viene proposto, ripeto, senza alterare in nessun modo la realtà storica dei fatti. Quindi a tutti lo consiglio.